Con l'approvazione del piano di recupero per il recupero dell'area del vecchio ospedale di Santa Chiara, ospedale peraltro tuttora in gran parte attivo, si dà il via ad un'operazione di radicale innovazione della città. Può partire il procedimento per la gara di appalto per la realizzazione del completamento dell'ospedale nuovo a Cisanello ed è una gara combinata in modo da mettere in palio subito anche il recupero del vecchio ospedale. Questo è molto importante perché innanzitutto vuol dire che ci sono i finanziamenti che in un momento in cui si fanno tagli pesanti sugli investimenti pubblici e sugli investimenti in sanità Pisa ha un grande finanziamento disponibile, quindi è una scelta della regione che premia la città e ci dà prospettiva. Ma questo finanziamento non basta da solo, ha bisogno di una compensazione che è data dalla vendita, in una grande operazione di recupero urbano, degli edifici del vecchio ospedale. Le due cose stanno insieme e quindi la città ha una maggiore garanzia che il vecchio non sia abbandonato ma sia davvero recuperato. Recuperato a funzioni residenziali e a servizi, sottolineo residenziali perché questo è un riequilibrio importante per la città, perché nel centro storico che spesso diciamo è stato invaso dall'università, soprattutto nella parte nord, noi recuperiamo una zona pregiata che è ridosso del complesso monumentale di Piazza dei Miracoli, quindi che è anche un valore importante e lì possiamo fare residenze che riequilibrano il centro storico, danno funzioni utili per il turismo, danno delle funzioni di quartiere sociali che potranno essere complementari in quella dimensione, danno anche uno spazio per l'accoglienza dei turisti che vengono a vedere la torre e uno spazio anche per ricollocare in modo definitivo le bancarelle che oggi sono messe in discussione, come si sa, dalle decisioni del Ministero dei Beni Culturali e dai lavori che devono partire. Quindi diamo una soluzione realistica in tempi non troppo lunghi. E poi facciamo un'operazione di miglioramento della città che implica molta prospettiva, perché fare il nuovo ospedale a Cisanello vuol dire dare una garanzia per un complesso ospedaliero che a regime ospiterà ogni giorno mediamente 16.000 persone, tanti dei quali lavoratori e lavoratrici e poi assistenza altamente qualificata dai trapianti a tutte le altre attività che già si svolgono a Cisanello e poi ricerca e poi applicazione di nuove tecnologie. Noi abbiamo chiesto all'azienda ospedaliera e all'università che farà il suo investimento, 52 milioni l'università e 306 milioni l'azienda ospedaliera, di fare le cose, le nuove costruzioni, la viabilità, i sistemi di trasporto in modo da creare un rapporto stretto con la città e quindi dare prospettive anche da questo punto di vista. Ecco, un insediamento sostenibile dal punto di vista ambientale e ben calibrato. Comunque, insomma, la decisione che prenderà la Giunta domani, dopo l'orientamento positivo unanime del Consiglio, è importante per la vecchia area Santa Chiara. Il piano, come tutti si ricorderanno, è il piano dell'architetto Schipperfield, quindi di uno dei più grandi architetti che oggi operano nel mondo, un piano di grande qualità che dà valore all'insediamento. Io spero, insomma, ci batteremo perché questo recupero, come il recupero delle vecchie caserme, se ci sarà consentito dal Governo o dal Ministero della Difesa, si possa realizzare davvero, avendo intorno a Pisa, comuni che abbiano uno sviluppo molto più moderato di quello che hanno avuto in passato. Perché Pisa può dare un grande contributo all'area pisana, all'area costiera e alla Toscana, avendo da fare operazioni immobiliari importanti, di grande valore residenziale, dove si fanno recuperi, senza mettere un mattone in più, senza consumare un metro quadro di suolo in più. Questo è un valore importante per la prospettiva che la Toscana, non solo Pisa, non deve farci sfuggire e per questo servono scelte coerente. Quindi nelle prossime settimane imposteremo il piano strutturale dell'area pisana e vedremo se le coerenze si affermano, se ci sono. Ecco, a quel punto il recupero del Santa Chiara e gli altri recuperi saranno molto più credibili, che avranno un mercato più facile e noi vogliamo creare questa condizione.